Scopriamo tutto quel che c'è da sapere sulla programmazione di Rai 1 e la puntata di Don Matteo in onda stasera. Stasera in tv, giovedì 7 luglio 2022, andrà in onda la quinta puntata di Don Matteo su Rai 1, si tratta di una nuova puntata o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche, pizzeria dal presidente Napoli omofobia, chi è il titolare Massimiliano Di Caprio? Cosa ha detto? Dove si trova il ristorante? Foto Don Matteo stasera 7 luglio 2022, replica o nuova puntata? Quella che andrà in onda stasera in tv 7 luglio 2022 non una nuova puntata di Don Matteo, si tratta invece della replica della penultima stagione. Don Matteo 12, quando va in onda? Rai 1 ha deciso di dedicare 10 prime serate alle repliche di Don Matteo 12 durante il periodo estivo, ma quando va in onda ogni puntata? L'appuntamento con Don Matteo è ogni giovedì con cadenza settimanale, come di consueto per la programmazione invernale. Don Matteo stasera, a che ora inizia? Orario la replica della puntata di Don Matteo 12 andrà in onda stasera, giovedì 7 luglio 2022, ma a che orario inizia? L'appuntamento è su Rai 1 dalle 21 e 25. Don Matteo stasera trama, cosa succede nella puntata in replica oggi 7 luglio? Vi seguito la trama ufficiale della puntata di Don Matteo 12 in replica oggi, quante puntate sono? In tutto, gli episodi della dodicesima stagione di Don Matteo 12 sono 10, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito a Don Matteo 12, quando va in onda la prossima puntata e i dettagli sulla trama della puntata in replica stasera giovedì 7 luglio 2022, quante altre puntate sono previste, l'orario e quando andranno in onda. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.